E' rottura totale tra la SIA e i tre comuni dell'ex Foggiano, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli. Il Consiglio di Amministrazione della Società della Raccolta Rifiuti del Baccino Foggia 4, gestita dal Consorzio dei nove comuni che comprendono Cerignola, Orta Nova, Ordona, Carapelle, Stornara e Stornarella, oltre ai tre della BAT, ha deliberato un aumento per coprire la perdita in bilancio che si addigira intorno ai 5 milioni di euro. La proposta accettata da sei comuni su nove è stata quella di applicare degli addendum malatari per riuscire a ripianare il debito ed adeguare il costo del servizio. Su questo si sono posti in maniera decisa i comuni della zona ofantina. Secondo le stime della SIA sarebbero previsti aumenti dei costi per 745 mila euro a San Ferdinando, 796 mila euro per Trinitapoli, 495 mila euro per Margherita di Savoia. Addendum rispetto ai quali i sindaci dei tre comuni, Michele Lamacchia, Francesco Di Feo e Paolo Marrano, avevano già manifestato la propria contrarietà. Nell'ultima assemblea, tenuta martedì scorso, i sindaci non si sono presentati e hanno inviato una lettera abbastanza particolareggiata dove erano spiegate tutte le motivazioni del dissenso rispetto all'applicazione degli addendum. Partendo dal presupposto che i comuni di Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia sono gli unici del consorzio ad aver stipulato un contratto di nove anni con la SIA per la gestione della raccolta di fiuti, secondo i sindaci Lamacchia e Di Feo non si può imporre un aumento del costo del servizio in maniera unilaterale rispetto ad un contratto sottoscritto da Trinitapoli addirittura nel 2014 e da San Ferdinando nel 2012. E' facile ipotizzare che le resistenze dei tre comuni della BAT andranno a sfociare in un contenzioso legale. Diversa la situazione del comune di Margherita che non ha un contratto sottoscritto con SIA pur avendo un debito di circa un milione e mezzo di euro per fatture di conferimento non pagate. Con una ordinanza del sindaco Marrano dal 15 luglio Margherita ha scelto di non avalersi della SIA per la raccolta e lo spazzamento dei rifiuti ma di affidare il servizio alla Barletta Servizi Ambientali. Cosa che ha provocato l'immediato invio delle lettere di preavviso di licenziamento per i 40 lavoratori impiegati nel comune di Margherita. Difficile però che possa concretizzarsi l'ipotesi Barsa con il grosso rischio a metà luglio di avere a Margherita un'emergenza rifiuti.